Avanti il prossimo concorrente Ciao ragazzi, chi siete? Io sono Diana Io sono Luca E siamo Diana Lu La prima audizione è stata straemozionante Perché quando ci siamo esibiti io avevo paura da morire Ero molto emozionata, tremavo tanto E poi non appena siamo saliti sul palco Siamo stati inondati da un calore fortissimo E lì abbiamo sentito l'adrenalina Siamo riusciti a cominciare i giudici con la nostra performance E quello è stato veramente molto bello perché i giudici ci hanno detto delle cose che ci hanno fatto molto piacere La tua storia, la intensità che avete avuto ha stato incredibile E anche ha stato un'esperienza per me indimenticabile Grazie mille Grazie mille Secondo me è sì per tutti Quattro sì Quattro sì ragazzi Grazie mille Grazie Bravissimi ragazzi Grazie a voi Il bootcamp è stato piuttosto stressante perché comunque è una situazione che ti mette sotto pressione in una maniera indescrivibile E noi ci siamo esibiti per ultimi Grazie a tutti E la cosa brutta è stata che bella anche perché alla fine a noi è stato dato un posto Però la cosa brutta è stata che un gruppo si è dovuto alzare per noi, le Coraline Fate un grandissimo applauso per Coraline per favore Ed erano nostre amiche quindi è stato brutto per loro Però comunque ci siamo sentiti molto appagati Adesso ci confrontiamo con la parte più difficile perché siamo rimasti in pochi Ovviamente ognuno valido se è arrivato fin qui E quindi dovremo cercare di dare il massimo per strappare un posto e per convincere Alvaro E oggi sarà sicuramente molto dura Probabilì 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 Noi crediamo di poterci meritare il posto a X Factor perché abbiamo fatto molta cavetta Da quando abbiamo iniziato a suonare per strada abbiamo sentito proprio l'esigenza di condividere il nostro messaggio con tutti E credo che in questo momento siamo pronti per iniziare a farlo Questa espressività, questa sperimentalità con la musica Andate a un'anorbita che è molto lontano dal mondo normale Devo trovare questo punto a dove si può arrivare e dove è troppo, no? Forse dobbiamo controllare tutti insieme un po' l'emozione, no? Forse dobbiamo controllare tutti i nostri amici Voglio vedervi ai live e vi dico di sì No È comunque un po' l'emozione